Ecco, il regalo per Zambu Hambo, che vive nel deserto del Sara, è pronto! Ed è pronto anche il regalo di Birkem Offen, che vive nella Lappogna! Tutti i regali sono pronti! Ho già finito! Non manca nessuno! Giuseppino, dove sei? Giuseppino! Babbo Natale! Ecco chi manca! Lui si ricorda di tutti e nessuno si ricorda di lui! Ma quest'anno ci ho pensato io! Ho preparato un regalo anche per lui! Dove l'ho messo? Dov'è? Dov'è? Non lo trovo! No! Chiederò agli apprendisti Polletti di preparare un regalo per lui! Quest'anno abbiamo finito in tempo, ora ci possiamo riposare! Eh certo, abbiamo iniziato a ferragosto! Prima si comincia, prima si finisce! Andiamo! Sì, andiamo! È un ordine urgente! Ma, dammi qua! Allora, cari apprendisti Folletti, manca il regalo per Babbo Natale! Pensateci voi! Noi? Noi? Che cosa faremo? Facciamo un porta... Rinna! Un porta... Glitta! No, un porta... Befana! Un porta caramelle! Ah, così Babbo Natale potrà mettere tutte le caramelle da portare ai bambini! State un po' a vedere! Allora, bambini, che cosa ci serve? Ci serve della carta regalo rossa tagliata a pezzettini, un vaso di terracotta, del cartoncino rosa, dei penelli, un paio di forbici, un penarello nero, della colla vinilica diluita con l'acqua, cotone, dei nastrini colorati e anche un po' di caramelle. Prendiamo il nostro vaso! Senza terra, mi raccomando! Dopo prendiamo la colla vinilica! E i pezzetti di carta! Certo! Adesso col penello... Cominciamo! Spennelliamo con la colla... e attacchiamo la nostra carta rossa, coprendo bene tutti gli spazi. Questo è il risultato finale! Abbiamo ricoperto tutto il vaso con la carta! Adesso dobbiamo coprire il bordo con il cotone! Lo facciamo subito! Una volta che è asciutto, spennelliamo la colla sul bordo del vaso e attacchiamo il nostro cotone. Così copriamo tutto il bordo del nostro vaso. Abbiamo finito il bordo e adesso faremo la faccina! Di chi? Ma di mamma Natale! Con il cartoncino rosa ritagliamo il profilo di un volto. Gli disegniamo gli occhi e la bocca. Gli disegniamo gli occhi e la bocca. incolliamo la faccina di Babbo Natale e per finire gli facciamo la barba ai baffi. Ecco la nostra faccina di Babbo Natale finita! Adesso decoreremo con un bellissimo nastro rosso e con tante caramelle! Con il nastro di raso rosso avvolgiamo il bordo del vaso. Lo stringiamo con un fiocco. Concludiamo la nostra decorazione con una bella manciata di caramelle. Che bello! Il portacaramelle è finito! Noi abbiamo fatto Babbo Natale ma voi potete farlo di tante forme e colori diversi! Ma adesso che cosa facciamo? Consegniamo il portacaramelle a Giuseppino, il nastro folletto! E speriamo Babbo Natale sia contento! Andiamo! Andiamo! Hanno fatto proprio un bel lavoro i miei apprendisti folletti! Ora lo metto dentro un pacchetto! Giuseppino! Dove sei? Buon Natale Babbo Natale! Un regalo per me! Grazie! Ma mi raccomando non aprirlo prima di... Natale! Mi��ner Babbo Natale! Amore! Oh! Olof! Ma ew! Grazie a tutti.